Il confronto con gli altri artisti è fondamentale, assolutamente, perché è una sorta di dialogo, di scambio e se uno rimane chiuso e non è aperto al dialogo diventa sterile, diventa un narciso. Non ha nessun senso, assolutamente, quindi trovo fondamentale il confronto. Il confronto serve sia a verificare, non a verificare, ma forse il termine non è esatto quello della verifica, però a confrontarti su quello che è il tuo pensiero con altri modi di vedere, con altri punti di vista. E di fatti, anche davanti a volte ad una stessa opera d'arte, ci troviamo a confrontarci, magari un gruppo di persone, e ognuno di noi ha una percezione diversa, ha un suo personale punto di vista. E qualche volta il tuo punto di vista non vede certe cose. E quindi ecco, che qui il dialogo, il confronto con gli altri è fondamentale, perché ti apre la mente, qualche volta ti bacchetta, nel senso che a volte ti ritrovi a dire caspita, sono stata proprio stupida a vedere le cose, a fare questa cosa in un determinato modo. Altre volte invece ti permette di rafforzare il tuo pensiero e dici, stavo pensando queste cose, seguivo questo pensiero e vedo che la cosa è assorbita anche da altri, è percepita anche da altri, no? E quindi anche questo pensiero di temi comuni è importante, perché noi viviamo insieme agli altri, non viviamo da soli e quindi il confronto è assolutamente una cosa importantissima, fondamentale. Il confronto avviene con quella che è stata l'arte del passato e quella che verrà. Il confronto è anche questo un percorso che non ha termine, è un continuo ed è importantissimo.